Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo su fanpage un interessante articolo, un po' modalità chiacchiera direbbe Heidegger, che ha in ogni caso per protagonista Giovanotti, il noto musico che tanto piace alle nuove generazioni, il nuovo musico del musicalmente corretto, che canta sostanzialmente in sintonia con la globalizzazione neoliberale. Bene, Giovanotti ha raccontato del proprio viaggio in bicicletta in Colombia e così titola fanpage mentre cantava in Colombia la gente si allontanava, proprio così. Lui cantava e la gente se ne andava, quindi non ha avuto probabilmente il successo sperato, fosse stato in Italia avrebbe avuto intorno a sé nugoli di persone a batterle mani e a celebrarlo, e invece in Colombia le persone non solo non stavano a sentirlo, apprendiamo dal suo racconto, ma se ne andavano addirittura. Quindi possiamo ben dire che ha avuto ben altro trattamento rispetto a quello che avrebbe avuto se avesse cantato per strada in Italia, o, mi permetto anche di dire, ben altro trattamento rispetto a quello che ebbe a suo tempo al Bilderberg Club, perché dovete sapere che Giovanotti in un suo intervento, se ricordo bene, presso l'Università di Firenze, potrei sbagliare, ma mi pare di ricordare bene, disse di essere stato ospite del Bilderberg Club e raccontò di questo incontro che gli organizzarono al Bilderberg Club, dove rimase molto colpito da questi signori che teorizzavano il superamento della politica, il superamento degli stati. Giovanotti forse non ebbe, diciamo, l'elemento critico necessario per capire che si trattava non del sogno desto di una società di uomini liberi e uguali, ma il trionfo di quel capitalismo transnazionale che punta appunto a neutralizzare la politica come residua forza di controllo dell'economia in chiave magari anche democratica e come creazione di un nuovo ordine mondiale ancora più feroce, quello del capitalismo deregolamentato in cui l'economia sta al di sopra della politica e l'ha neutralizzata, quindi si è liberato dalla possibilità di una politica che controlli l'economia. In ogni caso Giovanotti, che forse non capì fino in fondo cosa comportava realmente il superamento della politica, disse di aver molto apprezzato il Bilderberg Club e per quello che ci pare di aver capito fu egli stesso molto apprezzato da coloro i quali erano radunati in quel consesso. Bene, altro trattamento invece ha ricevuto, purtroppo ci spiace molto per lui, in Colombia dove non è stato celebrato come sarebbe stato celebrato se fosse tornato al Bilderberg o se anche solo avesse cantato in Italia, la gente addirittura se ne andava e quindi potete giudicare voi liberamente come meglio credete il popolo della Colombia.